Ben due giorni di gare al centro sportivo olimpico dell'esercito della Cecchignola a Roma, dove sono andate in scena le finali dei campionati italiani juniores di pesistica olimpica. A portare a casa la medaglia d'argento è stata la giovane campionessa Elide Crocamo, originaria di Ceraso, che ha dovuto sfidarsi con i migliori 120 giovani pesisti italiani. Le promesse della disciplina, che si sono affrontati per salire sul gradino più alto del podio. Ad accompagnare e supportare Elide è stato il suo coach Carmine Elia, proprietario della palestra CrossFit 4 Leoni di Vallo della Lucania, che con orgoglio ci parla della sua atleta e dei suoi progetti futuri. Siamo reduci dalla finale dei campionati italiani juniores che si sono tenuti a Roma questo weekend ed è inutile dire che siamo soddisfattissimi del risultato, perché siamo riusciti a conquistare un secondo posto in una categoria di peso che è stata veramente combattuta dalla prima all'ultima alzata. È un percorso, un processo che ci ha visto impegnati ormai con Elide da più di cinque anni e che piano piano, alzata dopo alzata, siamo riusciti a concretizzare il nostro lavoro con questo splendido risultato. I prossimi step proveremo già da subito, un altro turno di qualifica che ci sarà a maggio e che ci potrebbe consentire, se riusciamo a guadagnare ancora due step, a partecipare al camionato italiano, questa volta non di categoria ma assoluto. Quindi il nostro prossimo obiettivo, anche se non è semplicissimo, anzi è particolarmente difficile, sarà quello di provare questa qualifica. Ho 19 anni, vengo da Petrosa, piccola frazione del comune di Ceraso. Nemmeno un anno fa mi sono diplomata a scuola ed ora mi sono ritrovata a vivere sensazioni ed esperienze che la maggior parte dei miei coetanei non provano e che io non avrei mai immaginato di provare, dichiara ai nostri microfoni la giovane campionessa. Il crossfit per me è stato uno sport che mi ha completamente cambiato la vita, sia dal punto di vista fisico ma anche a livello proprio di carattere. Ho acquisito molta più autostima in me stessa. Io sono una ragazza, ero e sono ancora, ma prima molto di più, molto timida. Infatti già parlare di fronte a una telecamera per me non è semplice, credo si veda. Però sono cambiata tantissimo e questo lo devo allo sport in primis. Mediante il crossfit ho scoperto un altro mondo, che è la pesistica. Ed ho capito subito di avere una grande passione e propensione per questa disciplina, la quale grazie ai miei sacrifici mi ha portato ad essere dove sono ora, ma soprattutto grazie anche al supporto della mia famiglia. Questa esperienza è stata bellissima, non è stata la mia prima esperienza nazionale, però stavolta è stato un qualcosa di spiegabile. Per me salire su quella pedana è veramente una sensazione indescrivibile. Quindi ti ringrazio tutte le persone che mi seguono, che mi sostengono e che mi hanno permesso di essere lì. E niente, grazie. Io mi auguro innanzitutto che lei continui a divertirsi con lo sport, che i risultati nel nostro box sono sempre in secondo piano rispetto a quello che insegniamo e che vogliamo insegnare, ossia un corretto stile di vita e soprattutto a fare gruppo in palestra e a divertirsi attraverso lo sport. Poi i risultati sono una conseguenza, io li chiamo effetti collaterali, se tutto questo riesce nel migliore dei modi.